E finalmente qua in Emilia Romagna è spuntato un bellissimo sole che si è nascosto Caminiamo andando alla diga qua c'è la mappa della diga di Ridracoli qua c'è l'ago di Ridracoli molto bello e istruttivo qua ci sono le pietre queste griglie di ferro che trattengono le pietre per eventuali valanghe sì sì, qua c'è il ponte poi a destra troverete l'acqua della diga non si vede ancora al di là c'è sempre la cascata lì c'è la mamma, il nonno, il chicco, la nonna e il papi e qua ci sono io adesso stop! grazie! grazie!